Arrestato il primo cittadino, sprangate in autostrada, invasione di campo e imboscata. Ben trovati al Tg, grande clamore a Ceccano e non solo dopo l'arresto da parte della polizia del primo cittadino Roberto Caligiore, 55 anni, ex carabiniere, ai domiciliari insieme ad altre nove persone e per ulteriori tre sono scattati i divieti di esercizio della professione e dell'attività di impresa. Si tratta di funzionari e dipendenti del comune Fabrataerno, imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione di appalti pubblici per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Nel mirino dell'indagine che ha interessato anche l'ufficio di Roma della procura europea ci sarebbe in particolare l'attività di una cooperativa per appalti ottenuti con procedure negoziate e senza gare pubbliche. Le parole del dottor Carlo Pagano, dirigente del servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine della polizia. L'attività di intercettazione e le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del servizio centrale operativo di Roma e dalla squadra mobile alla questura di Frosinone hanno messo in luce il sistema corruttivo e hanno consentito di individuare professionisti e imprenditori che hanno potuto pilotare gli appalti grazie alla complicità di amministratori dipendenti del comune. I fondi venivano riciclati e monetizzati attraverso un sistema ribattizzato tangente fattura, ovvero l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e in relazione a questo della polizia ha stamani effettuato il sequestro preventivo finalizzato a confisca di oltre 500 mila euro. Caos e panico nel tratto sciociaro dell'autostrada A1 per due distinti episodi, il primo per uno scontro che ha interessato due tir tra Ponte Corvo e Ceprano con un ferito non grave e 5 chilometri di coda, il secondo con un altro camionista che è rimasto ferito alla testa ma non a causa di un incidente, bensì per essere stato colpito con una spranga al culmine di una lite per un sorpasso ritenuto pericoloso tra San Vittore, Del Lazio e Caglianello. L'autotrasportatore è stato soccorso e portato in ospedale e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini del caso. Movimentato turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie D allo stadio Salveti di Cassino, dove la squadra locale ha affrontato il Savoia di Torre Annunziata, i cui tifosi si sono resi protagonisti prima del lancio di bombe carta e di un'invasione di campo respinta dalla polizia intenuta antisommossa e poi di un'imboscata sulla via Appia dove due supporter cassinati sarebbero stati colpiti con una mazza da baseball da alcuni tifosi campani scesi da un van a risentirci alla prossima edizione.